Presidente, il tema dello smog, la proposta delle domeniche a piedi, secondo lei è una cosa che può servire? Ma io questa è una cosa che dico da sempre, può servire a livello psicologico, sicuramente non a livello concreto, se è vero che durante il periodo del lockdown, con il blocco completo di ogni tipo di circolazione, sostanzialmente i parametri sono migliorati in maniera irrisoria, quindi se vogliamo farlo per un coinvolgimento maggiore, ma concretamente non serve, credo, a molto. Questa è la dimostrazione che noi come regione, e come tutte le altre regioni del bacino padano, stiamo facendo tanto per migliorare la qualità dell'aria. Lo scorso anno è stata la dimostrazione che la qualità era migliorata in maniera sostanziale, poi quando si verificano periodi come quello attuale, nel quale non piove, non c'è nessun tipo di vento, non ci sono movimenti, chiaro che per la solita questione orografica, lo stazionamento di queste sostanze determina lo sforamento. Ma questa è la vera dimostrazione che nonostante l'impegno che ci stiamo mettendo e continueremo a mettersi, questi periodi determinano questa situazione.